Ci sono delle udienze in vista presso il Tribunale delle Acque rispetto ai ricorsi e qui abbiamo partecipato anche noi come Comune, quindi ci rimettiamo nelle mani del giudice confidando di aver fatto le cose giuste, le scelte più opportune per il bene della città di Bassani innanzitutto ma soprattutto per il bene del monumento. Giù le mani dal Brenta il giorno dopo l'intervento del Telegraf ci si interroga sull'impatto per il turismo che potrebbe avere la realizzazione di una centralina che rischia di lasciare a secco il ponte degli Alpini. Al tempo stesso l'intervento della stampa internazionale dimostra che quel manufatto progettato da Andrea Palladio è un bene che viene apprezzato anche fuori dai confini nazionali. La notizia che una nuova realizzazione potrebbe offuscarne l'immagine credo che non deve stupirci che rimbalza anche nelle conneche internazionali. Insomma nessuno abbassi la guardia, noi non lo faremo a tutela del paesaggio dell'ambiente ma soprattutto a tutela dei cittadini.